raga benvenuti in un nuovo video di corda stein direttamente dalla foresta amazzonica oggi vi portiamo a esplorare una scuola abbandonata non ci fermeranno i serpenti le zanzarettine non ci fermerà niente ma te mi raccomando anzi voi mi raccomando mettete un like un commento e iscrivetevi al canale e ora andiamo verso questo edificio pazzesco le prime informazioni di questo luogo si trovano nel catasto austriaco con la data del 1722 passò di mano in mano a diverse famiglie sia italiane che straniere fino alla famiglia del senatore cavallini di cui la villa prende il nome alla sua morte la sorella adelaide lasciò la villa piena colma di oggetti dall'arredamento ai quadri all'oro al comune con un'unica condizione però che diventasse una scuola promessa mantenuta però fino agli anni 90 raga raga siamo dentro piano terra come vedete distrutto completamente distrutto qui una macchina da scrivere dell'epoca una olivetti linea 96 qui troviamo un ripostiglio vediamo qua cosa c'è sembra tipo la cucina questa la zona delle cucine qua troviamo una lavastoviglie invece una miele selezione programma stiratura macchina a no una lavatrice sino una lavastoviglie una lavatrice da notare co come hanno scelto il l'azzurro delle mattonelle dio che crepi guardate questa vetrata che crepi che camminazzo c'è che veda ma che bella questa vetratina molto horror venite raga guardate è qua 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 c'è qualcosa di interessante qua c'è qualcosa di interessante chissà chi è come tipo al senatore gaspare cavallini e quindi è stata la scuola a cui è intestata la scuola giusto è giusto è giusto con queste farfalline che svolazzano a destra e sinistra qua ci hanno accatastato tutti i banchi sembra le sedie altre lavatrici lavastoviglie anche qui tantissimo materiale accatastato qui abbiamo una parete un po particolare e dovremmo entrare nella scuola da qua ci sono pochi banchi quanti ricordi e raga quando vedo questi banchi quando andavamo alle superiori senza pensieri armadietti quella quella ma dove siamo qua o ma ti sei guardato in in testa fra ma che bello se i ragni sono una costante no bello bello veramente da notare come il tempo si stia mangiando inesorabilmente tutto quanto completamente tutto qui ennesima macchina da scrivere olivetti linea 98 e guardate che meraviglioso affresco questo è veramente un affresco meraviglioso meraviglioso nonostante il tempo guardate come si sta mantenendo discretamente bene proseguendo il tour della stanza notiamo pareti lavorate queste vetrate qui ci sono dei banchi di scuola ma io sono rimasto svalordito da questo affresco veramente devo dire che c'è sempre un po di paura andare in questi luoghi da solo devo essere sincero qui il tetto sta crollando e qua c'è un tavolino con dei barattoli come vedete piano piano questo istituto sta crollando completamente a pezzi sta crollando completamente adesso noi potremmo salire di qua come potremmo fare il giro e decidiamo di fare il giro e saliamo da queste bellissime scale a chiocciolo guardate che belle saliamo proprio in maniera easy a primo piano e il primo piano si presenta così occio 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 qua è crollato tutto è crollato tutto qui ci doveva essere il cammino della villa luogo incredibile villa che alla fine era una scuola non era una villa lo dite la rischiamo camminare di qua o secondo voi si può camminare devo dire che ho un po di paura camminare qui anche voi siete passati di qua siamo passati dall'altra parte qui c'è una classe un bagno un bagno un bagno guarda che bel bagnettino che c'è qua proseguiamo questo cos'è è un pokemon raga è un pokemon quella queste sono le scale che vedevamo da giù completamente franate completamente franate ma il bello è esattamente dietro quella finestra lì è lì dietro guardate ammirate rifattevi gli occhi con questa incredibile villa e incredibile vista che dà sul lago maggiore e noi dopo andiamo all'estero in vacanza andiamo in giro destra e sinistra guardate in italia cosa c'è se uno vuole il lago c'è il lago se uno vuole il mare c'è il mare c'è la montagna c'è la montagna la pianura c'è la pianura la collina la collina raga dove andate all'estero state in italia va che sala va che sala va che sala chissà che sala era qua c'era un quadro elettrico probabilmente con tutti gli allarmi e con tutte le luci del del luogo e qui c'è una stanza una stanza importante vandalizzata completamente distrutta ormai c'è rimasto pochissimo di questa stanza però io voglio soffermarmi qua a questa incredibile vista ma veramente a questa incredibile vista wow wow e poi che dire del secondo piano se non che sta crollando tutto di qualcosa c'è di qua c'è un altro bellissimo buco sul soffitto che non ci fa niente di buono guardate anche lì cavoli fra ma non l'avevo visto lì c'è un buco raga c'è un buco c'è un buco c'è da stare veramente attentissimi se venite qua occhi aperti a tutto occhi aperti a tutto è un secondo farsi del male quella quella ma dove siamo ma che istituto siamo è molto è molto bello vedere come la natura si sta mangiando il posto no madonna qua sta crollando qua stra sta crollando tutto raga sta crollando tutto non vi offendete se visto che è del legno la stanza della facciamo vedere così anche perché lì è crollata ma qui qui si rischia la vita signori qua stiamo rischiando la vita per far vedere questa cosa qua cioè di che cosa stiamo parlando qui è crollato tutto guardate ricchi la in fondo qui è crollato tutto beh però il soffitto devo dire veramente molto 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 bello ne diamo a cesare ciò che è di cesare soffitto veramente bello guardate il pavimento il beppe ce lo faceva notare il pavimento la scelta è veramente ricoloso raga noi siamo al secondo piano ma non replicate queste scene a casa e soprattutto vi voglio dare un consiglio se esplorate da soli vi voglio dare un consiglio se esplorate da soli avvisate sempre qualcuno di dove state andando in modo che così dopo uno barra due ore che magari voi non vi fate sentire c'è qualcuno che sa dove siete può mandare del soccorso mi raccomando questa cosa è una cosa veramente importante se esplorate da soli dovete avere un occhio di riguardo cioè ma vi rendete conto quello che vedevamo prima ok attenzione raga qua si parla di affreschi e noi non possiamo dire di no a un affresco sì ma sono indietro dove siamo in una casa dei fantasmi qua c'era qua al prato veramente tagliato e qui c'è la cucina con i piatti guardate che robina telefono citofono qui abbiamo i tasti per il mini ascensore per le merci e qua troviamo il bancone dove troviamo un porta olio e un portaceto e qua qui ci sono qui era la cucina dove i ragazzi venivano a rifocillarsi si mettevano in fila appoggiavano il vassoio sul bancone portavano avanti e piano piano sceglievano le pietanze questi sono sicuri questi sono sicuramente i carrelli con cui portavano in giro i vassoi e li riponevano a qui c'è un bel soffitto c'è veramente un bel soffitto purtroppo di questa scuola è rimasto prampoco come state vedendo è anche molto 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 pericolosa io vi consiglio sia se venite di notte ma anche di giorno in ambedue i casi di prestare veramente tantissima attenzione c'è tanto legno è tutto aperto e si rischia veramente tanto un crollo qua è veramente una cosa che può accadere da un momento all'altro come vedete guardate qui che buco giusto per farvi capire e qui gli studenti passavano la gran parte del loro tempo una vista sicuramente incredibile un lago ad attendergli la fine della scuola veramente straordinario e che dire che dire io continuerò a stupirmi di come ci possano essere questi edifici in giro per la nostra penisola abbandonati non ce ne siamo accorti ma qui 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 c'è un calendario di giugno 2002 frate calendario di giugno del 2002 quindi 22 anni fa qui c'è un disegno probabilmente di un alunno di un bambino e qui tutti i bicchieri e la vetreria in questa credenza in cucina poche cose sono rimaste in tante in questo luogo però quelle poche cose e anche qui non ci siamo accorti del bel soffitto che c'è sopra la nostra testa quante emozioni regala l'urbex quante emozioni regala l'urbex rendiamoci conto di che cammino incredibile doveva essere questo signori ma dove siamo nella casa di harry potter nella casa della magia nella casa delle streghe non lo so spazio per i rifiuti qui c'era il bancone probabilmente a questo punto mi viene da dire del bar con la cassa e quant'altro lì dietro c'era la cucina ma qui c'è veramente da guardare in alto non come il video precedente che guardavate in alto per vedere gli affreschi ma faccia da guardare in alto per essere sicuri al cento per cento che non ti crolli niente in testa no vabbè un nido di cosa agli uccellini è vero l'hanno fatto nel coso del dell'idrante e qui poi roba ricetta guardate che ha fresco così buttato così robe da pazzo robe da pazzi ma come si fa a perdere una una scuola del genere un istituto del genere raga lì ci sono ancora le bocce dei lampadari in alto ancora le bocce dei lampadari guardate che super friggitrice può essere non lo so se c'è qualche cuoco che sta vedendo questo video ditemi secondo voi che cos'è questo quindi dobbiamo uscire secondo me dobbiamo uscire qua cosa c'è qua un archivio se qua sempre roba della mensa guarda ci sono tutti gli arnesi qui c'è un super frigo super frigo gigantesco e grosso come il mio letto li hanno murato come vedete la porta proseguiamo da fuori raga ebbene si raga si conclude così questa incredibile esplorazione mi raccomando fatemi sapere nei commenti come vi è sembrato il video lasciate un like iscrivetevi al canale e mi raccomando ci vediamo settimana prossima con un nuovo video noi intanto cerchiamo di capire come si esce da questa palude ciao raga